CL Calcio di Giovanni e Gianluca Italia Nella nostra scuola troverai tecnici all'avanguardia che valutano le intenzioni, lasciano spazio all'inventiva e valorizzano il singolo e il collettivo. Attività calcistica di base, campionati provinciali e regionali, quattro tecnici federali UEFA B, preparazione portieri con tecnici qualificati, campi in erba sintetica di ultima generazione, attività al coperto per i più piccoli. CL Calcio di Giovanni e Gianluca Italia Scuola Calcio Elite, riconosciuta a FIGC Apprendi, socializzi e ti diverti.